Eccomi, che te l'hai pronta? Allora oggi faccio una cosettina un po' sfiziosa però buona. Allora preparo delle polpette, qui c'è 400 grammi di macinato di vitellone, ecco adesso ci metto questa è una fetta di pane casareccio, ammorbidito con latte, un po' di pepe, un po' di prezzemolino, allora questa è cipolla non è aglio, perché l'aglio su questa non va bene. Allora qui c'è un tuorlo e un uovo intero. Abbiamo il parmigiano, questo è 60 grammi di parmigiano e poi mettiamo una pizzicata di sale, ecco qua. Viene impasto tagliato. Adesso impastiamo per le polpette, va bene amori? Oggi coroncina rosa abbiamo, eh? Amici, belli mie, mi faccio vedere qua questo impastino, è una meraviglia, già so quello che devi fare io, sai? Stiamo a fare polpettine. Ah ecco, eh? Allora qui c'è la pasta sfoglia che io ho comprato e ho fatto dei quadrati. Adesso io ci vado a mettere una polpetta, guardate bene, eh? E poi questa è mozzarella affettata, eh? Ecco qua, vedete? Quella pasta filata. Eh. Vedete? Facciamo dei fagottini. I fagottini ripieni di polpette. Di polpettine. Di polpettine. Lo spettacolo. Adesso noi ci andiamo pazzi quando le fanno queste. Adesso la mettiamo qua sopra, la spennelliamo un po' di uovo. Un po' di uvetto. Ecco qua. Aspetta, eh? Così si incolla bene. Che meraviglia. Che buone. E poi ci mettiamo anche la stellina. C'è. Pure il decoro. Vedete? Guarda che roba. qua. Ecco qua. Ecco qua. E il decoro non ci l'aveva fatto, però, eh? Oggi. No, ci l'aveva fatto. Ragliato. Non ci ho fatto la stellina, ma ci ho fatto il cuoricino. Eh? Eh. E certo. Poi se mi rimane la pasta, perché se mi rimane... Voilà. Vedete? Guardate, eh? Ecco qua. Sì. Poi queste vanno infornate. Che buone che so. Eh sì. Queste le dovete assolutamente fare. Sono sicura che molti le farete, perché sono una cosa molto sfiziosa. Sì. Poi piacciono a tutti. Ecco qua. Vedete? Sì. Che carine. Vai. Stellina? Sì. Tutte con le stelline. Sì. Mi sono perso il cuoricino. Beh, guarda. Guarda che carine queste stelline. Non lo so. Ma ora vedrai che fruga fruga uscirà fuori. Ecco qua. Vi piacciono? Sì. Guarda un po' che roba. Tira un bacetto. Bello. Sì. Guardate che carini che sono. Eh? Carini? Carini e buonini. No, sono buoni. Vai, adesso che fai? In forni? Adesso rinforno, ficocema e dopo si mangiamo pure. Certo, vedi un po' che può guardare dopo cotti. Eh, scusa, eh? Guardate belli, eh? Un mozzichetto io daremo, no? Ecco, vedete? Mamma mia, ragazzi. Adesso li metto a 180, poi 10 minuti col forno caldo a 180, e dopo li metto a 160, una ventina di minuti, mezz'oretta, dai. Dai, eggi in forna, io qua. Se devono coci dentro. Già c'ho l'acquolina in bocca, eh. Dai, eggi in forno. Vai, vai. L'albumino, l'abbiamo sfornati. Allora, guardate, io ho messo anche un po' d'olio, me l'ho dimenticata, perciò ve lo dico adesso, un pochettino d'olio, mettetelo. Sì, guarda un po'. Ma guardate che belle. Che bombette, mamma mia, oh. E certo, tocca far taglio, qui so quello che avete dentro come sono venuti, eh. Eh, andiamo un po'. Ragazzi, sono una... Ah, che bella. Mamma mia, una meraviglia, una goduria. Sì, guarda un po'. Ecco qua. Muscotta. Eh, eh. Che spettacolo. Se può assaggiare, scotta troppo, però ecco, guardate. Che profumo, mamma mia, oh. Ah, eh, scotta, non ce la faccio a mangiare. Guardate quanto so' carino. Guarda un po' questa sta a mangiare, ne la faccio, ne la faccio, però. Eh? Ah, 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 ah. Dai, faccio vedere esso assaggio, vuole muovere la faccia tua. Eh. Mmm, guarda un po'. Ah, che devo dire? Basta guarda la faccia, dietro. Scotta comunque, vero? Ma ah, 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 boni, eh. Lo so che so' boni. guardate quanto sono belli sono amore pure se ci avete gente come no anche come piccolo antipastino insomma antipastino così sia mia vabbè c'entra magari fai la pasta no vabbè vabbè belli mia io spero che vi sia piaciuta anche questa ricettina c'è piaciuta c'è piaciuta vero fatela perché è buonissima non mettete l'aglio mettete la cipolla io metto la cipolla quella lì ho infilizzata e se no dopo vi viene un sapore troppo così è delicatissimo poi a piacere vostro insomma tanti baci belli ciao sempre dal cuore grazie a tutti a tutti quelli che ci seguono ciao 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 ciao